... ... ... ... ... ... ... Io sono, basta metterlo. Tu guardi, mille, una, mille, due, mille, tre, mille, quattro, mille, cinque, mille, sette. Allora, io vi abbiamo mai fatto fare 6 sete, ma sì, voi. Ok, ok, commenta. Allora, devo dire che è che è in mussa, almeno. L'ultimo faccio vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.